Ciao, sono Valerio Novara. La prima puntata di The Last of Us è andata in onda su Sky Atlantic, sottotitolata in lingua originale ed è stato veramente un successo perché personalmente l'ho trovata veramente forte ed è partita con il botto. Diciamo subito che la serie prende spunto dal videogioco, dall'omonimo videogioco che è uscito su PlayStation nel 2013, quindi dieci anni fa, e ci porta prepotentemente in una situazione dandoci anche delle spiegazioni all'inizio di come si è arrivati ad uno scenario post-apocalittico in cui l'umanità lotta per la sopravvivenza. Ma andiamo con ordine. Allora, la serie inizia nel 1968 con un excursus temporale in cui si fanno dei discorsi che personalmente ho ritenuto molto attuali. Si parla di una possibile epidemia, una pandemia globale, che potrebbe verificarsi da un fungo che praticamente si insinua nel cervello delle formiche e ne controlla i movimenti e insomma li infetta da dentro. Si vede uno studio televisivo nel 68 in cui viene anche preso in giro questo uomo che insomma dice nel futuro potrebbero esserci delle pandemie a cui l'umanità potrebbe andare incontro e insomma anche dei medici lo prendono in giro dicendo vabbè ma sapremo affrontarli insomma come è possibile che un banale fungo possa infettare l'umanità e farla diventare quasi degli zombie. Insomma c'è una frase che mi ha molto colpito in cui viene detto sì ok adesso negli anni 60 a fine degli anni 60 stiamo tranquilli ma con il riscaldamento globale questo fungo potrebbe mutare e insinuarsi anche all'interno dell'organismo umano e quindi all'interno del cervello. Nel futuro se il pianeta si riscalderà ancora di più perché non potrebbe succedere? E questo è quello che se ci pensate insomma abbiamo anche un po' vissuto durante la pandemia con il covid ed è una serie che poi ti proietta nel 2003 quindi c'è questo passaggio dal 68 al 2003 in cui la vita sembra trascorrere normalmente negli Stati Uniti. In Texas nel 2003 vediamo quest'uomo il protagonista interpretato dal bravissimo Pedro Pascal di Il Trono di Spade ma anche di Mandalorian e di Narcos. È un attore che apprezzo tantissimo e che secondo me è perfetto per interpretare Joel che è il protagonista anche del videogioco. Dicevo della pandemia è una serie che esplora al massimo sia quello che abbiamo vissuto con la pandemia di questi ultimi anni sia la reazione dell'essere umano e quindi anche i rapporti umani che si instaurano alla fine di un periodo così difficile quando la salute e l'organismo umano viene messo a dura prova da qualcosa di letteralmente invisibile. La serie passa da quel 68 al 2003 quando le cose sembrano andare bene, Joel fa l'appaltatore, insomma una figlia vive del suo lavoro dentro questa casa a un certo punto iniziano a verificarsi delle cose strane, delle rivolte, una violenza inaudita per strada. La cosa che mi è piaciuta della serie tratta dal videogioco di questa prima puntata perlomeno è che lo spettatore viene mano a mano accompagnato rispetto a quello che poi sarà lo scenario e l'ambientazione post apocalittica che abbiamo visto insomma nei trailer e nelle locandine della serie. Dico subito che io non ho giocato al videogioco ma ho apprezzato tantissimo poi insomma leggendo un po' online anche l'ambientazione che è rimasta molto fedele al videogioco e anche le musiche sono le stesse del videogioco. Dobbiamo ricordare che la serie è stata supervisionata dallo sviluppatore di The Last of Us del videogioco e dal creatore di Chernobyl quindi comunque sia c'è molto lavoro dietro e è voluta è volutamente dettagliata per dare sia diciamo credito a tutti i videogiocatori che hanno apprezzato il videogioco su playstation pensate dal 2013 è un videogioco di dieci anni fa ma che insomma parla di argomenti attualissimi e di cose come la pandemia che abbiamo affrontato negli ultimi due tre anni e altra cosa sono le musiche dicevo le stesse del videogioco con questa canzone finale alla fine della prima puntata che è davvero bellissima ma l'ambientazione la scenografia gli effetti speciali sono di primo livello il trucco e l'acconciatura insomma delle persone che cominciano a trasformarsi all'interno del insomma della della prima mezz'ora quando si passa dal dal dagli anni 60 al 2003 c'è ci sono questi primi episodi e in cui si vedono le prime persone infettate infette che iniziano a trasformarsi e per esempio una delle differenze con the walking dead come ricorderete insomma so se avete seguito the walking dead questo vuole essere il nuovo the walking dead ma credo che sia anche differente a livello di come si mostra la violenza tante scene non vengono mostrate quando per esempio gli infetti mangiano le loro prede la carne umana la camera si gira rispettosamente quasi per le persone che stanno morendo che sono divorati da questi infetti ma è una delle differenze che the last of us inizia proprio spiegando di passo dopo passo come si è arrivati a l'infezione di questo fungo altra differenza con il videogioco per esempio è che nel videogioco c'è questa spora e sarebbe stato difficile per gli attori recitare con delle maschere per tutto il tempo quindi nella serie non starò insomma a dirvi come sono riusciti a spiegare nel modo più verosimile possibile come ci si infetta e perché insomma ci sono persone che sono state infettate che insomma non hanno più la capacità di intendere di volere e ho apprezzato tantissimo anche il fatto che rispetto agli zombie se ricordate walking dead c'erano questi zombie che comunque camminavano lentamente erano abbastanza semplici da abbattere e invece adesso insomma gli infetti camminano anche velocemente corrono hanno questa fame irrazionale di divorare delle prede vive e joel e la figlia si trovano quindi catapultati in una situazione in cui si deve scappare alla fine di questa prima mezz'ora insomma joel avrà la sua prima tragedia la sua prima tragedia della sua vita sua figlia purtroppo non ce la farà e ho trovato anche la sua morte forse un po rispetto a tutto quello che stava succedendo quindi all'infezione al fungo e alla trasformazione il fatto che venga uccisa da un soldato che li ferma e lui cerca di fargli capire non siamo infetti non siamo malati questo soldato spaventato spara joel riesce a insomma a spostarsi e a schivare e essere preso solo di striscio ma la figlia viene uccisa da un colpo di fucile una morte che sinceramente ho ritenuto davvero drammatica ma anche incredibile rispetto insomma alla violenza che stava succedendo insomma le rivolte per strada si vedono questi elicotteri passare si vedono tantissime camionette e macchine della polizia l'esercito fino ad essere poi catapultati altri vent'anni avanti e quindi nel 2023 dove ci troviamo attualmente in uno scenario a dir poco post apocalittico che è dei più belli rispetto a quanto viene mostrato sullo schermo con questi palazzi semi distrutti con le piante che hanno preso il sopravvento sul sulla civiltà umana perché poi è questo e vediamo un joel invecchiato di vent'anni con dei capelli un po' brizzolati e un aspetto molto più duro a differenza del videogioco insomma leggevo che è un joel molto più umano e pedro pascal lo interpreta benissimo questo personaggio che è comunque segnato da un dramma come quello della morte della figlia che mi ha molto scosso che mi ha comunque davvero mi ha davvero provato nella prima parte di questa prima puntata che comunque dura un'ora e venti e che ti lascia la voglia di andare avanti di continuare c'è stata la seconda parte del 2023 che forse è un pochino lenta però troviamo anche l'altra protagonista della serie che è l'attrice bella ramsey anche lei l'avevamo apprezzata nelle ultime stagioni di game of thrones perché era stata una ragazzina che veramente ci stupiva con qualsiasi cosa diceva insomma che si faceva anche rispettare dai lord del nord trovo di spade e che in questa serie interpreta ellie una ragazzina di 14 anni che incredibilmente dopo essere stata morsa e non si trasforma nonostante abbia la ferita del morso e sembrerebbe essere immune a questo virus e quindi al contagio è un incontro il loro che avviene gradualmente e che avviene con le giuste motivazioni pedro pascal joel deve ritrovare il fratello e nello stesso tempo ellie che non è mai uscita da una zona di quarantena dove c'è questa associazione di ribelli se vogliamo che lotta contro l'esercito che armato ha presidiato tutte le principali città e contro gli infetti che invece stanno fuori la prima puntata ti trasporta gradualmente fino all'esterno della recensione dove chissà che cosa ci aspetta nelle prossime puntate una ellie che ha l'ho apprezzata tanto l'interpretazione di bella ramsey perché riprende un po quella che era stata la sua bellissima interpretazione del trono di spade una ragazzina che sa quello che vuole molto schietta molto diretta e che farà tornare presumibilmente anche un po d'umanità a questo padre che comunque è stato segnato a vita da un dramma come quello della morte della figlia mi aspetto davvero tantissimo anche dai prossimi episodi ricordiamo saranno nove episodi la serie andrà in onda in lingua italiana doppiata in italiano lunedì prossimo su sky atlantic e credo che rappresenti uno spartiacque tra le trasposizioni cinematografiche sui videogiochi a cui eravamo stati abituati non me ne voglia resident evil a cui sono molto legato e ma anche la rappresentazione insomma della violenza e di questi infetti è veramente sbalorditiva in questa serie tv purtroppo c'era stata poca fortuna di alcune trasposizioni da videogiochi a film film in particolare che non sono mai decollati ma in questo caso credo che the last of us possa essere poi insomma c'è il marchio di hbo lo dicevamo nelle nostre live settimanali su ciacchiazione hbo credo sia sinonimo di qualità insomma ci ha abituato sempre a prodotti di grande spessore e è una serie che esplora sia la reazione ad una pandemia dell'umanità ma che esplora l'essere umano e l'aiuto che può trovare e dare al prossimo anche in un periodo difficile come questo in cui ci siamo rispecchiati dopo il covid e in cui avevamo anche la stessa paura dell'altro la stessa paura di toccare avvicinarsi all'altro è una serie che ricorda mai come in questo caso quanto è importante poi l'aiuto che ci può dare qualcun altro anche in una situazione drammatica come questa e che quindi mette in contrapposizione la paura dell'altro e quindi la paura dell'infetto la paura del diverso con quello che invece possiamo dare e i gesti di altruismo che possono aiutarsi ad andare avanti e a sopravvivere in un mondo che cambia continuamente e poi insomma l'umanità che viene sbeffeggiata e che come ho detto io a tratti fa veramente schifo per il fatto di aver suddiscaldato il pianeta di aver sottovalutato la distruzione che insomma la deforestazione e i cambiamenti che l'uomo ha portato sull'ecosistema e quindi sugli animali sulla vegetazione e viene messo a dura prova da un semplice fungo che però ti fa capire quanto è stato determinante quello che hai fatto soprattutto nell'ultimo secolo e che ha portato poi a metterti in ginocchio nel nostro caso davanti al coronavirus e quindi ad un virus che muta poi continuamente che ti uccide fino a che non si trova una cura che potrebbe non arrivare mai nella serie c'è il grande dilemma ma anche la speranza che le cose possano migliorare grazie a questa ragazzina Ellie che alla fine della prima puntata rivela io sono stata morsa non tre giorni fa ma tre settimane fa e ancora non mi sono trasformata l'obiettivo e quindi la speranza dei protagonisti sarà di andare in cerca di capire insomma se la genetica di Ellie o insomma quello che l'ha resa immune dal contagio possa aiutare anche tutti gli altri sopravvissuti che si trovano sul pianeta sono molto curioso di andare avanti sono uno insomma di quelli che ha visto The Walking Dead e che ha provato a vedere anche Fear The Walking Dead e le serie con l'ambientazione zombie mi piacciono tantissimo le serie post apocalittiche e insomma staremo a vedere che cosa ci propinerà The Last of Us nella seconda puntata per il momento io vi saluto ma vi chiedo se a voi è piaciuta la prima puntata qual è stata la cosa che vi è rimasta più impressa e se ci sono una cosa che mi piace dire troviamo anche i lati negativi perché vedo e ne leggo di tantissime recensioni positive insomma se ne parla un gran bene ma non è sicuramente perfetta come ho detto ci sono alcuni momenti un po' lenti forse dura un po' troppo la prima puntata però insomma c'è tutto c'è l'ambientazione c'è le interpretazioni pure e l'angoscia e l'ansia che salgono ce le porteremo dietro probabilmente sarà un divenire sempre più sempre più forte io vi consiglio di iscrivervi al nostro canale youtube se ancora non l'avete fatto di seguirci su facebook instagram ciacchiazione dove diamo quotidianamente news e recensioni dei principali film e serie tv del momento e vi do appuntamento al prossimo video